In Puglia e nel Salento sono 149.477 cittadini stranieri residenti rappresentando il 3,8% della popolazione complessiva di questi 91.649 provengono dai paesi extra Unione Europea Bari e la provincia con il maggior numero di residenti stranieri 30,2% seguita da Foggia, Lecce 18,7%, Taranto 11,3%, Brindisi 8,7% e Barletta-Andreatrani. Questi dati emergono dal dossier statistico Immigrazione 2024 presentato a Bari presso la sede della CGL Puglia. Il rapporto, giunto alla 32esima edizione, rileva anche una presenza significativa di minori pari al 18,4% del totale degli stranieri residenti, tra i 25.554 nuovi nati nel 2023, il 5,3% a genitori stranieri. Gli studenti stranieri iscritti nelle scuole pugliesi sono 20.330. Per quanto riguarda i permessi di soggiorno emessi nel 2023, il 42,2% è concesso per asilo, il 28,2% per ricongiungimenti familiari, il 16,5% per lavoro, il 13,1% per altri motivi. Gli stranieri impiegati in Puglia sono 50.200, dei quali 43,6% opera nel lavoro domestico, il 14,5% nell'agricoltura, il 4,4% nel commercio, il 3,7% nei servizi e il 3,2% nell'industria. Sono inoltre 22.146 le imprese pugliesi gestite da cittadini stranieri, delle quali il 52,9% attive nel commercio. Stiamo cercando di adottare delle misure per riconvertire il ghetto di Borgo Mezzanone in un insediamento più inclusivo e più in connessione con il contesto territoriale.